Salve, siamo ZLBG e questa è? La mappa dei touchpoint. I touchpoint sono i punti di contatto tra i servizi di cui ci stiamo occupando, cioè la scuola open source e i suoi utenti. Gli utenti sono divisi in tre fasce sul modello di Wikipedia, cioè l'1% i creatori dell'offerta, del valore, il 19% che sono i co-creatori di valore, c'è la cerchia che collabora in maniera stretta con l'1% e l'80% in cui sono inclusi i fruitori del servizio che consumano sostanzialmente il servizio. Sono grossomoro tre cerchie concentriche che guardando più da vicino contengono nell'1% ad esempio il consiglio di amministrazione che è lente sia gestionale sia propulsivo. Nel 19% abbiamo gli hacker, i maker, i co-creatori, chi sta attorno alla scuola e crea il valore che poi viene portato all'80% che è diciamo la cerca più ampia. Abbiamo indicato con i post-it giallo i touchpoint già presenti. Dividiamo i touchpoint in materiali, materiali analogici, digitali, ma soprattutto quelli appunto presenti in implementazione totalmente assenti. È molto interessante notare che due touchpoint che sono al centro della proposta della sosta di gestionare il marketplace sono dopo un anno ancora in fase di implementazione, ma ancora di più il fatto che touchpoint classici come i gadget, i lesivi, sono totalmente assenti. Inoltre tra i touchpoint presenti abbiamo individuato dei bug sulla base di interviste e consultazioni con gli altri partecipanti all'XYZ Lab. In particolare un bug è nella sede inteso come comodità e presenza di spazi per decompressione, eccetera. E come si diceva appunto nei gadget di XYZ che per l'appunto sono assenti anche nei corsi. In quanto si tratta di una mappa utile appunto al debug è il momento in cui rileviamo cosa non va per poi passare alle fasi successive di progettazione e risoluzione.